Festa di Sant'Antonio Abate, patrono di Calasca, domani domenica con l'arrivo dei frati e con la partecipazione degli animali. Alle 14.30 la Santa Messa, seguita dall'incanto delle offerte, dalla merenda con i frati. Sarà l'occasione anche per visitare una bella mostra fotografica e per vedere una miniatura del paese realizzata dalla Sportiva. Guardate un po'. A Calasca Castiglione succede che il locale gruppo della Sportiva ha deciso di rappresentare il paese con una sorta di plastico veramente straordinario, assolutamente in scala con montagne ed edifici. Ebbene tutto il paese e tutte le sue frazioni con gli edifici più significativi. Ma come è nato questo progetto? Il progetto è nato l'anno scorso, siccome noi precedentemente facevamo i concorsi dei presepi, visto che alla fine dovevamo smaltire queste cose, abbiamo deciso di fare una cosa che rimanesse proprio sul territorio per visitarlo, per vedere da tutti. Ma il progetto è stato partito dall'anno scorso, credo, dall'anno scorso. Niente, è stato fatto da un geometra, perché è stato fatto su scala. E poi c'è un signore con un coordinatore che si chiama Sandro. E lì siamo partiti nel mese di novembre, settembre. Siete partiti con un'intelaiatura in legno, con la posa delle reti e poi di tutto questo materiale che cosa avete usato? Abbiamo usato le reti, come dice lei, abbiamo adoperato del gesso, praticamente un 600 kg di gesso per realizzare questa opera qua. E avete lavorato a più mani. Ogni zona è stata curata da alcune persone. Esatto. Accanto al plastico del paese, la storia di Calasca Castiglione, raccontata per immagini. Che cosa avete raccolto qui? Abbiamo raccolto tutto quello che si poteva raccogliere tramite una persona anziana, che è Guido Belli, che ha un archivio da invidiare. Purtroppo non è... avendo una certa età il computer non lo lavora. Però ha tantissimo materiale. Farselo prestare è stato abbastanza sottosto perché è geloso delle sue cose. Ce l'ha prestato, ringraziamo tanto il signor Guido. Poi abbiamo tramite io e il mio collega Walter Ferrari, abbiamo fatto un po' di tutte queste fotografie, quelle recenti diciamo. Abbiamo scannerizzato tutte quelle vecchie e abbiamo pensato di fare un po' la storia di Calasca. Ecco.